Ieri sera per il Festival Internazionale di Musica della Camera di Cervo abbiamo avuto un evento straordinario Federico Colli che è un giovane che in Italia è poco conosciuto ma che in Europa effettivamente sta spopolando quindi è stata una granditissima presenza e veramente un concerto di altissima qualità che è proprio in linea con quello che noi cerchiamo di fare nel Festival di Cervo appunto c'è stato ovviamente un momento molto sentito nel quale abbiamo dovuto e abbiamo capito che era utile ricordare quello che è successo pochi giorni fa nella tragedia di Genova perché evidentemente il popolo è uno, la Liguria è una per tutti e noi ci viviamo e quindi ritengo che sia veramente importante fare un passaggio e noi aggiungiamo il nostro piccolo contributo in musica che spero che poi tocchi in ogni caso i cuori delle persone quindi insomma ognuno che porti il proprio piccolo pezzo del mosaico lo ritengo un passaggio importante quindi ritornando a noi appunto è stato un concerto straordinario su questa piazza straordinaria perché come diciamo sempre Charways Magic evidentemente siamo già pronti per il concerto successivo quello del 19 dove ci sarà una novità assoluta ecco perché sono rarissimi i casi in cui a Cervo abbiamo avuto il canto in questo caso un soprano Daria Masiero che recentemente ha anche cantato al Metropolitan di New York quindi a seguito di questo vi direi la piazza vi aspetta